Dalla slitta al battello ecco la più grande novità per il Natale di Verbagna. È veramente bello vedere anche la rete costruita dalle varie associazioni. Un'iniziativa popolare che può diventare una grande attrattiva turistica anche in senso economico per Intra e per la città. È un evento che è nato da un'intuizione Giorgio Comoli e di altre persone che collaborano per il bene turistico, anche nella nostra città, è venuta fuori la collaborazione con la navigazione Lago Maggiore che ringraziamo per la disponibilità del battello e anche per aver creduto in questo progetto. Da dove è nata l'idea di porre la casa di Babbo Natale sul lago? Noi chiaramente Verbagna, capofila del Lago Maggiore, non potevamo fare altro che scegliere il nostro lago per un modo originale per portare Babbo Natale ai nostri bambini. Poi con una storia, una leggenda del 1400 abbiamo lavorato sopra e abbiamo creato questa piccola nuova leggenda per il Lago Maggiore. Dal 2 dicembre con anche 1200 bambini delle scuole coinvolti su questo bellissimo battello. Vuol dire che comunque per i bambini il Babbo Natale è ancora il Natale, non c'è niente da fare, quindi noi ci prodigheremo con i nostri elfi per rendere il tutto più agevole possibile per loro e sicuramente sarà una bella sorpresa per i nostri piccoli.